Allora iniziamo con i Retriever Flat Carly scusate Ecco qua il Carly A seguire Flat Coated Labrador Golden Nova Scozia Lagotto Romagnolo Cocker Spaniel inglese Cocker americano Allora qui abbiamo cinque Retriever, cioè cinque cani da riporto Il Lagotto che è un cane da tartufo e due cani da cerca che sono i due Cocker Ecco qua il Carly Ecco qua il Carly Con questo caratteristico pelo Riccio Flat Coated Anche questo è un cane da riporto Nero Allora proseguiamo sempre con i Retriever Questo è un Labrador biondo Abbiamo qui anche la varietà nera e la varietà chocolate Golden Retriever Nova Scozia Ed è qui il Lagotto Romagnolo Ed è qui il Lagotto Romagnolo Allora il Cocker Spaniel Allora il Cocker Spaniel E a seguire il Cocker americano Allora il Cocker Spaniel Allora, ci siamo al terzo posto, cocker americano. Al secondo posto, Carly Cotted Retriever, vince Labrador Retriever. Allora, ci siamo al terzo posto. Allora, ci siamo al terzo posto.